Vi piace la mia maglietta? Guardatela bene. Leggete. È un regalo. È un regalo di un mio amico che voi conoscete, immagino, se siete affezionati a YouTube. Si chiama Ricky Farina. Riccardo me l'ha regalata lui. Si capiscono gli amici anche dai regali che ti fanno. Perché un amico che ti conosce ti regala qualcosa che ha a che fare con la tua personalità, con quello che sei. Non importa quello che spende, non importa che sia un regalo vistoso, deve essere un regalo che c'entra con te, insomma, in qualche modo. Ecco, Riccardo è uno di questi. È uno che le persone le sa conoscere, le sa inquadrare. È curioso per le persone, è curioso per coloro i quali si rapportano con lui, insomma. Non è un amico con il quale ci vediamo tanto, però qualche volta ci siamo visti e c'è della simpatia, diciamo così. E lui è, che dire, è un poeta. È un poeta perché sa usare le parole, le immagini create con le parole. Sa giocarci sopra, sa creare associazioni a volte impensabili, ma che aumentano, danno più significato alla vita. Danno più significato a quello che, più che alla vita, al nostro immaginario, insomma, con i poeti, quelli veri. Quelli che poi sanno anche vivere da poeti, insomma, un po' da dendi, un po', diciamo, in maniera spensierata, non troppo legati ai doveri, alle costrizioni che la vita ti impone, insomma. Ma no, sanno anche giocare, sanno anche svicolarsi, svincolarsi dalle regole quando sono oppressive, insomma, no? E sanno vedere e sanno costruire un fantastico nuovo, insomma, no? Delle associazioni, delle immagini anche improbabili, diverse, ma che allargano gli orizzonti. Quindi lui anche ha una grande curiosità per le persone, per questo poi le sa conoscere, perché o sa farne la conoscenza, e farne la conoscenza per lui poi vuol dire fissarle in immagini, vuol dire riuscire a costruire in un film, anche breve, quello che è l'essenza di quella persona, quello che è il carattere. Qualcosa in cui queste persone poi si possono anche saper riconoscere, insomma, l'anima, diciamo così, di quella persona. In pochi minuti di film lui ha questa capacità di riuscire a cogliere l'anima delle persone. E quindi i suoi ritratti, i suoi videoritratti, sono delle cose anche queste artistiche, perché sono vere, insomma, ecco, sanno prendere, sanno rivelare la verità di quella persona. E per fare questo ci vuole anche molta curiosità, no? Molta curiosità per gli altri, per le persone che si hanno davanti. Saperle ascoltare, saper fare le domande giuste, perché queste persone magari parlino di sé, si rivelino. Cogliere gesti con i quali queste persone si rivelano. Beh, tutto questo lo sa fare molto bene il mio amico Riccardo. E quindi andate sul suo canale e guardate i suoi film. Se andate su Facebook, guardate, seguite quello che posta. Seguite, non ne vale la pena, insomma. Non sono tanti i personaggi che si incontrano con la vita e che riescono a allargarti gli orizzonti. Cosa scriveva Huxley a questo proposito? Huxley scriveva così, a proposito di un suo amico, che era anche poi un amico rompipalle, come vedremo. Ma non riusciva a farne a meno, perché, dice, in presenza sua sentivo che il mio essere si espandeva. C'era, per così dire, un'alta marea dentro di me. Lungo gli ali di sabbiosi, desolati canali del mio essere, la vita fluiva con forza e vivacità. E Kingham era la luna che faceva salire e scorrere attraverso il deserto. Tutte le persone che ci sono simpatiche esercitano su di noi, in misura maggiore o minore, questa influenza lunare, facendo salire le maree della vita fino a coprire ciò che era inaridito e morto. Ma ci sono degli individui che con la loro vicinanza fanno salire una marea più alta e su un numero molto maggiore di anime. Kingham era uno di questi esseri eccezionali. A coloro che lo trovavano simpatico era più simpatico di qualsiasi altra e ovviamente più amabile conoscenza. C'era in lui qualcosa di vivido, di ardente. Ti poteva affascinare anche quando diceva o faceva cose che tu disapprovavi. Persino i suoi nemici ammettevano l'esistenza e il potere di questo suo fascino. Stringiamo un po' l'immagine. A questo volevo arrivare, cioè volevo arrivare ad Huxley. E queste frasi che ho citato sono frasi che ho tratto dal libro che recentemente ho postato. Anzi, che ho appena postato. Libro che si chiama Due o tre Grace e al quale vorrei rimandarvi perché volevo dire anche qualcosa di questo libro. Che lo trovo molto bello, molto interessante. Uso una parola banale per dire, però cercherò di spiegare perché lo trovo bello. Diciamo così, è una perla che mi sembra di avere in qualche modo scoperto, tirato fuori dal Dimenticatoio. È un libro che è stato scritto più o meno nel 1932, pubblicato nel 1933, quando Huxley aveva non molti anni, poco più di 30. Pubblicato in quegli anni là e poi io l'ho trovato per caso, diciamo così. Per caso perché Huxley era un nome che mi diceva qualcosa e di cui volevo leggere qualcosa. Confesso che non ho letto Il Mondo Nuovo. Mi era capitato quindi di leggere un racconto e questo racconto mi era particolarmente piaciuto. Era un racconto breve. Quindi ho cercato di procurarmi i suoi racconti che sono contenuti in un volume piuttosto grosso. Anche questo ho pubblicato tanti anni fa. E poi ho detto, va bene, ingenuamente comincio dal primo e leggo il primo, non guardando quanto era lungo, cose che si fanno ingenuamente. E quando ho cominciato però a leggere questo racconto, mi sono reso conto che era una cosa piuttosto lunga, non era un racconto. Sono cinque ore di libro. Però dopo le prime pagine l'ho trovato così affascinante che non sono più riuscito a smettere di leggerlo perché poi ti prende, insomma, ti prende. E perché ti prende? Intanto comincia in maniera insolita. Comincia a raccontarti chi sono gli scocciatori, a cercare di discriminare i vari tipi di scocciatori. Sembra quasi Umberto Eco, insomma, pre, perché è venuto prima di Umberto Eco. Ma insomma, Umberto Eco avrebbe potuto prendere da lui nel definire le varie categorie di scocciatori. Ne parla con molta ironia, con molta capacità di penetrazione, perché lui è costretto a subirli questi scocciatori. E quindi si capisce che sono dei diversi tipi di scocciatori che incontra e che gli danno molto fastidio nella vita. Ma per poi arrivare al personaggio principale di questo racconto, di questo romanzo, che è Grace, grazia, probabilmente. E quindi da questo immagino che abbia preso il titolo il libro. Due o tre grazie, cosa vuol dire? Vuol dire che questa grazia, che poi è il personaggio femminile, è la moglie di uno di questi scocciatori. Di uno scocciatore piuttosto, diciamo, fastidioso, perché quando ti incontra ti butta addosso tutte le sue conoscenze. Non gli interessa neanche di stare a sapere, a sentire se tu lo ascolti o meno, se tu capisci quello che dici, ma lui ti parla di cose che non ti interessano per niente. E parla sempre. E ha sposato questa grazia. E lui, siccome finisce a casa sua, incontra questo personaggio che poi diventerà il protagonista del racconto, indirettamente perché è un racconto, diciamo, narrato da un io narrante in prima persona che è lo scrittore, diciamo, che ci immaginiamo che sia lo scrittore. Però Grace è un personaggio a cui l'attenzione dell'io narrante si rivolge con particolare interesse, insomma. E infatti all'inizio è incuriosito da questa Grace, perché è un personaggio strano, è un personaggio che lui incontra e che è molto ingenua, molto fatua in qualche modo, insomma, bruttina, ma che lo incuriosisce e quindi cerca sempre più di avvicinarsi e di capirla. Lui è un critico musicale e quindi un po' alla volta la porta a sé, anzi, la porta nelle sale da concerto dove va... E lei, a contatto con l'io narrante, si trasforma e diventa, anzi, pensa di diventare anche lei quasi un critico musicale. E dopodiché la presenterà anche ad altri amici e questa Grace cambierà, a secondo dell'amico che incontrerà. questa Grace è un personaggio particolare, che poi risulta anche simpatico, ma che all'inizio fa un po' ridere, insomma, è tutto narrato in chiave molto ironica, con una profonda ironia, ma anche con una profonda capacità, appunto, di penetrazione nell'animo umano, con delle riflessioni che sentiamo vere, insomma, con una voglia di conoscere e un piacere per l'atteggiamento di umanità, di rispetto verso l'altro, che sentiamo poi in chi racconta, no? Allora, questa Grace, insomma, è una donna che è come se non avesse una personalità sua. Chi di voi ha letto Calvino, ha letto Il Cavaliere inesistente? In questo racconto, Il Cavaliere inesistente, oltre al protagonista, c'è un altro personaggio che fa da contraltare, ed è Gurdulù. Ecco, mentre Il Cavaliere inesistente è, diciamo, la forma, no? Quello che si mostra, quello che appare, ma senza sostanza, il Gurdulù invece è il contrario, è la sostanza che non ha forma, quindi un qualcosa di informe, di magmatico, che però si adatta, diventa quello che è l'ambiente in cui si viene a trovare. E Gurdulù quando vede, per esempio, uno stagno con delle ocche, quasi si mette a volare, no? Diventa oca anche lui. Ecco, così è un po' Grace. A seconda dei personaggi che incontra, e incontra dei personaggi poi con un certo carattere, che Huxley descrive molto bene, insomma, anche lei si trasforma e diventa quasi quello che quel personaggio è, no? Si adatta al suo, al carattere del personaggio che incontra, e diventa quasi come lui, insomma, no? Lo assorbe subito e lei si sente così come quell'altro la vuole, solo che con uno di questi personaggi poi avrà un rapporto molto conflittuale, perché è questo amico di Huxley che ha questa personalità molto forte, molto violenta, molto contradditoria, insomma, un personaggio abbastanza ossessivo. Ecco, ognuno di questi personaggi, diciamo, con cui questa Grace si mette in relazione, quindi due o tre Grace vuol dire che sono due o tre modi, o più modi, in cui questa Grace è, cioè non è una, non ha un carattere suo, è quello che gli altri la fanno diventare. La storia è la storia di questa donna con questi incontri e i rapporti che si creano, le modalità di comunicazione, tutto quello che succede in questi incontri. E sono descritti così bene, che sembra di leggere un libro di psicologia, però un libro di psicologia rappresentata, di psicologia che analizza i comportamenti umani. e qui però li vediamo rappresentati, e li vediamo rappresentati in maniera divertente, per cui si ride, si ride, ma nello stesso tempo si capisce che c'è un rispetto del mio narrante per l'umanità delle persone. Non è un prenderle in giro e basta, insomma, no? È un volerle anche capire, è un rappresentarle con le loro contraddizioni e sono le contraddizioni che fanno ridere non tanto l'umanità del personaggio e se stesso. Non so se riesco a farmi capire o far capire la differenza. Ecco, e allora volevo invitarvi a passare cinque ore in compagnia di questo audiolibro che, ripeto, ho cercato su Google di vedere se era edito da qualche parte e non l'ho trovato edito, non ho trovato neanche nessun commento di questo libro. Quindi, per me, rappresenta come una perla sepolta in un mare di dimenticanza, in un mare anche di banalità, di inutilità, che sono tanta letteratura contemporanea, di cui nessuno più si occupa. Lasciata lì. Sono passati quasi cent'anni da quando è stato pubblicato la prima volta, novanta. Sono contento di averlo riscoperto e di farvelo ascoltare, perché è bello. Io spero che si rendano conto anche gli editori, insomma, che queste operazioni sono a vantaggio anche loro, che riscoprire un libro dimenticato non toglie a loro nulla e che forse potrebbe dare loro la possibilità di rimettere nel circolo opere di questo tipo, invece che tante cavolate che l'editoria ci sforna. Quindi, libro divertente, ma profondo, libro con cui potete passare cinque ore veramente serene della vostra vita, ma di quella serenità che fa sì che anche si rifletta e che quindi metta in moto anche la nostra emotività, i nostri sentimenti. ci sono delle riflessioni che sono profondamente vere e condivisibili se teniamo conto anche l'epoca in cui sono state fatte. Ecco, allora, mi piaceva anche dirvi due parole sul fatto che questo libro per me un pochino lo avvicino per passare ai contemporanei. Insomma, un altro libro che mi è piaciuto molto che ho registrato e che ho riascoltato in questi giorni, più recente, un libro italiano che... Ah, mi dimenticavo anche di dirvi che questo libro di Axley è pieno di un humor inglese, insomma, no? Per cui c'è questa... per chi si sa divertire con l'ironia e con l'humor inglese, insomma, c'è sostanza per divertirsi. Ecco, un altro libro divertente, secondo me, che si legge ma che è anche profondamente umano, questa volta recente, è Un calcio in bocca fa miracoli. di presta. Anche lì sono cinque ore in compagnia di un vecchio, un po' bisbetico, un po' balordo, strano, che però vive delle storie molto affascinanti, parla di se stesso e parla con un umorismo, con un sarcasmo, anche delle cose che fa, insomma, no? Degli amici che ha, anzi, del vero, dell'unico vero amico che ha e che si chiama Armando, un resistente, resistente nel senso che continua ad avere questa salumeria vecchio tipo nel momento in cui tutte le salumerie sono superate in favore dei supermercati, insomma, no? E che ha una profonda umanità, tanto che, insomma, si gira lui e fa girare anche l'amico quando entra la vecchietta che per bisogno gli va a rubare un po' di pasta o quello che è. E quindi la storia, insomma, di questo vecchio narrata con questo umorismo, con questo sarcasmo, ma con questa profonda umanità, perché è un vecchio che poi, vedremo, lascerà anche un'eredità, insomma, lui ha cominciato a fare il falegname, ancora un laboratorio di falegnameria e si preoccuperà di realizzare il desiderio dell'amico che era quello di trovare un fidanzato a una ragazza alla quale voleva fare in qualche modo del bene, per forza voleva fare del bene, siccome questo amico morirà, questo Armando morirà durante il racconto, ecco, allora lui continuerà quest'opera di questo Armando e farà in modo che questo ragazzo che era disoccupato possa avere un lavoro e quindi gli cederà, lo avvierà a fare il falegname, insomma, e quindi questa eredità che lascerà ha una figlia ma vive a Milano, è sposata, insomma sta da lui per un po' ma poi ritorna dal marito insomma col quale si riappacifica e lui insomma terminerà questa storia lasciando quest'eredità a questo diciamo figlio putativo a cui lascerà la falegnameria insomma racconto anche questo pieno di umanità ma anche con un umorismo bello pieno di figure retoriche simpatiche insomma è un libro che ti fa passare del tempo sereno ma ripeto riflettendo e pensando anche all'umanità e a quello che c'è per esempio in questo caso nella vecchiaia e allora sempre andando per come dire per similitudini così mi veniva in mente un altro libro poco conosciuto e non so se si trova neanche più in commercio insomma le vite di personaggi non illustri di Pontizza anche quello è un libro che ho letto tempo fa l'ho letto l'avevo anche postato sono venti storie di personaggi strani anche questi caratteri particolari che facevano delle cose strane particolari anche questi rappresentati con una grazia di scrittura con una capacità con un'ironia insomma no che che li rende veramente divertenti insomma sono sono da da leggere o o da ascoltare purtroppo l'ho dovuto togliere questo audiolibro ma insomma io ce l'ho è qui ecco ed è un po' secondo me allora riflettendo allargando ancora di più la visuale insomma dalla letteratura passando al cinema insomma sono quelle storie che mi ricordano un po' anche amici miei e il film questo film che tutti quanti abbiamo visto per il quale tutti abbiamo riso in qualche modo ma è quel riso poi che è fatto anche un po' di amarezza perché in quel caso almeno secondo me per quello che penso io lì c'è c'è la noia della quotidianità di questi personaggi c'è la volontà di uscire da una da un'esistenza che è fatta di ritualità di condizionamenti il fatto di fare sempre le stesse cose la vita insomma quindi c'è bisogno di immaginare che si può fare altro insomma di mettersi alla prova in quel caso facendo o inventando questi scherzi questo modo allegro di stare insieme e insieme combinare quello che combinano insomma nelle varie storie ma in fondo c'è l'amarezza e la solitudine di ognuno dei protagonisti di questi cinque amici partono in quattro poi diventano in cinque mi pare che in qualche modo riescono a essere vivi nel momento in cui stanno insieme e fanno qualcosa di diverso di strano magari anche di discutibile però è il modo che riescono a pensare per dare senso a una vita che altrimenti sarebbe monotona con delle mogli noiose con dei lavori rutinari insomma è una vita che non avrebbe quello slancio quel fulmine di vitalità che invece riescono a darlo facendo quello che fanno e ovviamente facendo quello che fanno ci fanno divertire però alla fine di quel film anche proviamo un senso di amarezza però sentiamo con loro che anche nella nostra vita ci sarebbe bisogno di qualche lampo di genialità in più di qualche momento di poesia di invenzione in più essere più più liberi più più fantasiosi insomma più capaci di creatività e invece ci troviamo imbottigliati spesso in problemi in cose che ci opprimono e che ci fanno diventare nevrotici insomma se ci adeguiamo o ti fanno diventare invece un po' pazzi se questa realtà la rifiutiamo e facciamo finta che non ci sia insomma un lampo di pazzia che ci faccia sentire più vivi insomma ecco l'associazione insomma che mi viene in mente pensando a questo libro di Huxley e agli altri libri insomma che mi sento di avvicinare e che sento molto riusciti anche dal punto di vista letterario dal punto di vista della scrittura che di Huxley scrive molto bene insomma è un piacere leggere questa scrittura insomma c'è leggerezza ma c'è anche rapidità c'è profondità c'è una capacità di sentire e di vedere di analisi e quindi di rendere questa analisi non facile perché si va su un territorio di di sottigliezze psicologiche insomma di analisi di rapporti tra le persone di come si pensano i rapporti insomma il tutto in un racconto che ha un suo andamento una sua logica un suo divenire ecco mettere insieme tutto questo in questo in questo libro non è facile è opera di un di un grande scrittore di un grande narratore io spero di convincervi con questo video ad andare insomma è una lettura gratuita è postata è postata in modo integrale e quindi in cinque ore la sentite dall'inizio alla fine sicuramente se l'ascoltate delle emozioni le proverete garantito e con questo vi saluto buon ascolto arrivederci a presto Grazie.